Un saluto a tutti amici di AndroidWorld.it, io sono Ciso e oggi voglio fare un confronto che spero possa interessarvi. Il primo dispositivo che confrontiamo è questo Sony Ericsson Xperia Arc, il nostro Android e lascia spazio al LG Optimus Dual e infine a HTC Incredible S. Abbiamo impostato su tutti i dispositivi la luminosità al massimo. Quindi, vogliamo farvi vedere, per iniziare, un confronto fra immagini. Abbiamo caricato su tutti i device la stessa immagine. Quindi, luminosità al massimo su tutti i dispositivi. Questo è uno schermo da 4.2 pollici LED, retina display. Questo è da 4 pollici LCD. E questo è da 4 pollici Super LCD. Qui abbiamo Android Gingerbread, qui Froyo e anche qui Froyo, entrambi con la promessa di un aggiornamento. Il Sony Ericsson ha un processore da 1 GHz, Qualcomm, anche l'HTC Incredible S ha uno schermo da... Scusate, un processore Qualcomm da 1 GHz. Come potete vedere, l'immagine del Sony Ericsson è più nitida, più chiara e risulta un pochino più luminosa. Questi due schermi si assomigliano molto. Quello dell'Incredible S sembra un pochino meno definito di quello del Dual. Allo schermo del Dual sembra un pochino più definito rispetto a quello dell'Incredible di HTC. Vogliamo fare poi un breve test dal browser. Vogliamo caricare da tutti il sito di Repubblica. Non è nella cache di nessun telefono. Ok, proviamo a caricarli contemporaneamente. Come possiamo vedere, entrambi i device Froyo hanno caricato la versione mobile. Invece, il Sony Ericsson ha caricato la versione light. Andiamo a caricare un attimo la versione full anche per il Sony Ericsson. Come potete vedere, non so se riusciamo a zoomare ancora un pochino, tutti e tre hanno il supporto al Flash Player. Questi due dispositivi, HTC e Sony Ericsson, sembrano avere il colore un pochino più bianco. Questo tende un pochino al blu. Andiamo a vedere un attimo lo scrolling. Buono su tutti e tre. Forse qualche esitazione in più sul Sony Ericsson, ma neanche tanto. Fluidissimo su Incredible S. Abbiamo caricato ancora una volta una pagina per errore. Facciamo un test del pinch zoom. Non fluidissimo sul Sony Ericsson. Molto fluido sull'Optimus 2. E molto fluido anche su Incredible S. Quindi qualche lag in più, nonostante la presenza di Gingerbread, sul Sony Ericsson. Tutti e tre, come potete vedere, sono dotati di Player Flash. Passiamo ora invece al test di Neo Core. Questo ovviamente, l'LG Optimus Dual, è dotato di processore grafico Tegra 2 e una CPU Dual Core. Questi qua invece hanno una GPU, una scheda grafica, una Dreno 205. Vediamo se riusciamo ad avviarli contemporaneamente. E sono partiti. Vediamo se riusciamo ad avviare. 74 frame per secondo per l'Optimus Dual. 58.9 per il Sony Ericsson e 55.7 per l'HTC. Eseguiamo invece un benchmark completo. Le caratteristiche tecniche. Sony Ericsson, processore da 1 GHz e 512 MB di RAM. E scheda, diciamo, processore grafico a Dreno 205. L'LG Optimus Dual ha un dual core, sempre da 1 GHz. ARM a 9, 512 MB di RAM sempre e invece processore grafico Tegra 2. L'HTC, esattamente come il Sony Ericsson, ha una CPU da 1 GHz, sempre processore grafico a Dreno 205, ma 768 MB di RAM. Pronti ad avviare il test. Quindi in questo caso ovviamente la valutazione sarà molto più completa. Qui abbiamo un test completo su tutte le funzioni del dispositivo. Un po' di ritardo nell'esecuzione per il Sony Ericsson. Vediamo se però il risultato finale renderà giustizia anche al dispositivo Sony Ericsson. Ok, siamo quasi arrivati alla fine del test per tutti i dispositivi. Appena finisce anche l'ultimo dispositivo. Perfetto. Abbiamo un risultato di 1.356 per Sony Ericsson Xperia ARC. Un risultato di 1.544 per Incredible S. E invece l'ottimo risultato di 2.441 per LG Optimus Dual. Questo era il confronto fra i dispositivi. Ancora una volta potete vedere le differenze fra gli schermi. Per questo confronto è tutto. Un saluto da Ciso per AndroidWorld.it Il mondo è tutto ci Grazie per la visione!